Musica Cari amici benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Guardate com'è bella la mia nuova skin invisibile Certo che se fosse così anche in real life sarebbe stato molto più facile fare il secondo video che caricheremo oggi alle 5 e mezza Che fa parte della serie un pezzo alla volta a modo suo possiamo dire Ci siamo divertiti molto a farlo speriamo che possiate apprezzarlo come stile di video Ma volevamo fare qualcosa di strambo per festeggiare il nostro ottavo anniversario anche in vostra compagnia Quanta pazienza ci è voluta in questi 8 anni E comunque sia auguri amore e poi naturalmente non perdetevi il secondo video di oggi Benissimo direi di cominciare con questa mappa che si chiama Escape Me Creata da Nico The Pro Vediamo subito di che cosa tratta Ciao e benvenuto nella mia mappa La tua missione scappa da ogni stanza Come farlo? Beh c'è solo un modo per scoprirlo Trova un sistema per uscire di qua Muori D'accordo Muutati di sotto Beh muuto di sotto Ci sono Non riesco ad uscire Nessuna parte Ci sono le barriere proviamo subito Magari c'è una falla in questo sistema Tra l'altro qui in mezzo vedo che ci sono Acqua Nelle cose d'acqua che goccia da sotto ma non ha neanche le gocce di cioccolato Come non ha neanche le gocce di cioccolato? È un peccato è un peccato che l'acqua non rilasci cioccolata E credo che sia una brutta cosa la natura ogni tanto sbaglia anche C'è un command block da sotto che credo semplicemente serva probabilmente a tenere il tempo bello di solito E neanche lui credi no Potrebbe farlo Sembra molto divertente Ma credo di no Qui dove diamo devo andare Riproviamo a vedere se cambia qualcosa Trova un modo che c'è della stanza Sì Ho capito Aspetta No Speravo di avere qualcosa Un bottone in testa magari Un bottone in testa perché no Non c'è un bottone in testa Allora ti schiaccia un po' Non c'è niente Questa stanza è tutta uguale a se stessa Tranne qui che mancano gli slab Hmm Vuole a dire qualcosa? Vuole a dire che si era dimenticato Chi può dirlo Chi può dire No ma io non posso rompere niente Magari c'è un piccolo passaggio Un tasto Magari un tasto nascosto Eh potrebbe essere che per uscire dal livello Devo trovare un bottone O devo morire Perché non è detto devi morire Devi trovare un modo per uscire Ma io non vedo niente Proviamo a rischiacciare Aspetta Schiaccio un sacco di volte Vai Stiamo bugando tutto L'unica cosa che fa di diverso Non ti iscrivere a scritta verde Ora sì Ah Sei vicino la soluzione Aspetta Come sei vicino la soluzione La Come sei vicino la soluzione Me lo scrivere solo perché sono al centro Lo scriverebbe ovunque Aspetta Proviamo a riattivarla Ok Andiamo nell'angolo Sei vicino la soluzione Spiegamela L'altro angolo Spiegamela Sei vicino la soluzione Aspetta È vero È cliccabile È vero Ora ci pensavo Grazie Pokémon Ametista e Cobalto Se non avete visto quel video Fatelo Perché è fantastico È il più grande Perfetto Simulatore di Pokémon In vanilla Ricreato in Minecraft È qualcosa di epico Veramente E lì si può Cliccare sulla E sulla chat E meno male Mi è venuto in mente Ora dove in poi Esatto Si fanno tutte così Premimi Quindi le scritte verdi Sei seri o non è così facile Le scritte verdi vanno per me Grazie Premo tutto Premo anche l'inventario No niente Allora Siamo in una stanza bruglia C'è stata bruglia Sei in questa stanza bruglia Bruglia Ok dove devo andare Allora il mio unico punto di riferimento È quello Quindi probabilmente devo cercare di allontanarmi da questo Provo Vediamo Aspetta se mi sto allontanando E ora Ora basta Allontaniamo Ora che c'è Una pecola nel tasto Risolto Risolto Ok non era troppo difficile Meno male Wow Questa è la casa più brutta Della storia di Minecraft Non è vero C'è quella dell'anziano saggio Che è peggio Anche tu sapresti fare di meglio Questa è una casa Secondo te C'è della costa dirt Nella muri di dirt Qui ci sono semplicemente Dei blocchi qui in terra Oh Che? Non riesco ad andarci C'è una barriera Aspetta Ci sono delle barriere anche qua Non riesco a salire Non c'è No qua ci si può Aspetta Non torna Allora in tutte Non ci posso salire In questa invece Non ci posso andare sotto Forse Forse vuol dire Che ci sono Le barriere anche sopra Ah dici che è una specie di No Tipo un parkour invisibile Il mio incubo questo Non lo usate Quasi quasi Non lo usate È impossibile sta roba Non ci si Oh dove sono? Che ti state Sono barriera sei Aspetta Quindi questo Ci sale Metti l'F5 Magari ti vedi meglio Ho capito Forse devo fare così E salta Sbagliato in pieno In F2 Magari ti vedi meglio In F2 Si faccia lo screenshot Eh si faccia lo screenshot Eh in F3 Ok no Sì lo so Poi è cambiato Per qualche motivo Va bene Ci sono Ci sono No Laggiù c'è un bottone Ma non crede mai C'è così Fucci Fucci Non ci posso Aspetta Magari c'è un bottone Nascosto No Dove posso andare Posso saltare sul bordo del muro E mi butto giù No Nemmeno stavolta Dove devo andare allora Raggiù c'è la stanza buia Di prima Maledettissima Aspetta C'è quella su Laggiù E come ce ne raggiungo C'è un pressure plate Sulla destra Aspetta Magari Ho capito Posso andare Tipo qua E cavi No No Speravo No qual è la tua teoria Speravo di vedere Che magari potessi Rissaltare Sopra In modo da arrivarci Ah no Effettivamente no Se provassi A pensare Che c'è un po' di stradina Tipo faccio così Neanche E muori No allora no Pensavo Che c'è un po' di stradina Sopra elevata Anche sopra Sempre di barriere Non cadere però No Ora ci voglio provare E se fosse tipo Come c'è di giro Quindi devo andare Due volte Nella stessa strada Dall'alto Vediamo se la mia tattica Ha senso Visto che però Ho sbagliato in pieno Ben due volte Andiamo a sbagliare in pieno Altre volte Sbaglio un'altra volta Faccio oggi la volta A vivere in una stanza Fatta solo di parkour Ok Di birch Proviamo a salire di qua Quindi Sì Ci sono E ora E di nuovo Ok Deve essere lo stesso pattern Ok Che cattiveria Non si capisce niente Ah ci sono Ci sono Ricordibile L'abbiamo Completato Uno spazio Clicca tutto Clicca tutto Clicca Clicca Non si clicca niente Solo questi Non si clicca Peccato Peccato Va bene Allora Peglia tutto Peglia il becco Peglia questo Ok Scusa ma che te ne fai Di quegli oggetti Non lo so se me la date Magari li devo prendere Magari ci devi sotterrare vivo Magari devo svuotare Il chest Per aver vincere Ne frega niente Ok Perfetto Abbiamo questi Però non li posso Non li posso piazzare Sono inutili Accidenti Questa però Posso usare sulla dirt E non gli angoli Quindi Che cosa me ne fai Ah Si apre un piccolo passaggio Si apre un piccolo passaggio Si esce lì sotto Diventare il piccino Oh Stai giù Non c'è No non c'è niente Forse c'è C'è un pezzo di dirt È un bottone Forse Si è un bottone Non ci posso credere È un bottone Clicca 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 Che clicco Un donate spooky 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 È spuchissimo Clicca su Non voglio cliccare su tutto Clicca e spooky Ah Sei un genio È vero Voglio darti un regalo Grazie Clicca sul regalo Grazie Clicca anche sul regalo Clicca su un altro Che mi ha dato un regalo Clicca sul regalo Ma se non posso avere 100 regali Clicca compulsiva Davvero Sì Non si sa mai Non si sa mai Clicca compulsiva Cosa serve questo Per rompere il nether quartz Anche gli altri Servono a quello Va bene Rompi il nether quartz Tutti servono a quello Stai sicuro Tu Mi sono dissi Gli ho clonati Neve Non puoi romperla Che succede Ecco Snow versus fire Va bene Sono qua Però non posso più rompere niente E allora C'è qualcosa là sotto Un chest Non sembra un chest Eh no Cosa è Ci arrivo No Di qua C'è qualcosa Dove sono Sono su Minecraft E qui c'è il bottone Grandioso Grandioso Geniale C'è un common block qui Ma non ci sono bottoni Strano Magari se fossi in credito Potresti abbinare Che sia sempre attiva La redstone Magari c'è un Ci sono Posso buttarmi Di sotto Maledetto Ti speravo Di poter buttare Di sotto C'è un bottone qua Ok Vinto Non è servito a niente Può si è aperto qualcosa Può si è messo il bottone qui Su common block Perfetto Geniale Schiaccia Schiaccia Non sto scherzando Questo è brutto Di proposito Schiacci Magari da qualcosa Sulla scritta Um um Brava Um Um Blocco piazzato Che blocco Blocco piazzato Ok Che cosa Non mi sembra diverso da prima Che blocco hai piazzato No No Questo poteva cadere No È la prima volta Che ti vedo morire In questo gioco Scudenti E c'è Un spawn point C'è un spawn point Va bene Ah Ma c'è C'è una bambina Comodissima qua Ah forse È il blocco Che abbiamo piazzato Può da E ora dove sono Questo è il più facile Aspetta perché lo devo cliccare No No Questo è il più facile Il clic è compulsivo Non aiuta sempre Rompi C'è qualche oggetto Salto Salta Finito Davvero È veramente facile Allora Ok Solo uno è quello giusto Ma è un pochino diverso Che cosa Le birche È un legno di birche Birche No Le bruci Ahia Non bruciare anche te Birche schifosa Allora sei una birche Cosa vuol dire Che ognuno Che questi buchi Questi buchi Nascondono qualcosa Questi Questo è un po' diverso Davvero No Aspetta ma non li ho neanche visti tutti Voi sapete qual è diverso No effettivamente Allora diamo un'occhiata Mi È fuoco quello Mi sembrano tutti uguali Sembrano tutti identici Sì Non noto particolari differenze Questo ha la lava Questo ha la lava Provo Sei sicuro Ci sarà l'acqua sotto la lava Via Sì Sì Fatto Perfetto Ma davvero L'ultimo livello L'ultimo livello Ci siamo L'acqua e lava Siamo nello skyblock Siamo andati lontani Clicca 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 giusto Clicca Niente Ormai ci stiamo abituando Va bene Sbatacchia Ma io non posso muovere nessuna parte Vuoi romper l'albero Finire l'acqua No 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 Finire l'acqua Ci sono riuscito No 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 perché Qual'era quella con la lava Eh sì E' quello dopo Va bene Ci abbiamo fatto Ok Riproviamo Ma guardate Io non posso spostarmi E sono tutte Sono tutte Delle barriere Guardate ovunque Sono barriere E' una strada L'assenso unico Verso di qua L'unico posto che posso andare E' fin qua Non posso neanche andare avanti Neanche sull'erba Può entrare E allora dove vado Muori l'acqua Muori Se muori è visto che succede Se muori Non devo morire Magari l'acqua può farti un scopo Aspetta Magari come prima Devo morire No non devo morire No non devo morire Ti piace morire la lava eh Come si fa Che idea è Che idea è Assurdo E' impossibile Non capisco Ci sarà un bottone nascosto Magari Ah magari salto sulle barriere C'è qua Salto sull'albero Vai sull'albero esatto Magari c'è un Non lo sembra Magari c'è un Qualche tipo di Bottoncino Piccino Nascostissimo Non lo so Dove sei Ma ci sarà un altro passaggio Che non sia Perfettamente bloccato Dalle barriere Beh arriva fin qua Ora spiegato C'è di L Che va di qua E non si fa niente Non capisco Maledetto Dove devo andare Se io vado qua Non c'è niente Qualcosa di nascosto Qualche strana cosa Maledette barriere Perché avete fatto una cosa del genere E' cattivissimo E' cattivissimo No Un foglio Prendimi Non ce l'ho fatta C'è volete Sbaglio C'è un chest sotto la lava Non ci avrei mai pensato Mi piace mettere la lava sotto la lava E' vero E se anche c'è qualcosa sotto la lava Uno non lo vede C'è un chest Geniale Meno male che ogni tanto Io clicco col destro a caso Sul mouse Va bene Preso Thank you for playing Spero che vi siate divertiti Escape me By Nico the Pro Grandissimo Ok possiamo rivederci addirittura La mappa in scioltezza Ma che bella Che bella mappa Rivediamo tutti i momenti Che ci hanno accompagnato In questi lunghissimi mesi E mesi di minuti E fino alla fine A tornare Al posto di partenza Spero che questa mappa Vi sia piaciuta Adesso anche voi dovete scappare Dalla testa di El Ecco il nuovo Livello aggiuntivo Escape my head Va bene Grazie di cuore Poi stai con noi Fateci sapere Se questa mappa Vi è piaciuta Che a noi importa Sempre tantissimo Il vostro parere Naturalmente Non perdetevi Il nostro video Folle Delle 5 e mezza Buon anniversario a noi Buon inizio settimana A voi E grazie a tutti Per essere stati Con noi E Alla prossima Ciao 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 Mi mangio Nya 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 nya